Grazie Erika. Io sono diventato un maker perché come molti avevo un problema da risolvere. Il problema era quello di realizzare modelli di architettura a basso costo ed erano quelli, parlo di due anni fa, quindi non tanto indietro, però erano gli anni in cui il progetto RepRap cominciava a tirar fuori le prime macchine per stampa 3D autocostruibili funzionanti. Era una comunità di centinaia di persone, oggi migliaia che da tutti gli angoli del pianeta senza conoscersi si scambiavano schemi elettronici, progetti, idee per costruire queste macchine e arrivare a questi risultati. E quindi io avevo la soluzione al mio problema, ma avevo molto di più e ho scoperto una porta verso un mondo che poi mi avrebbe permesso di imparare cose nuove, di entrare in contatto con altre persone. E quindi ho cominciato anche io a mettere del mio in questo progetto perché la tecnologia era un po' acerba e quindi volevo dare quello che potevo. E ho cominciato a riscrivere la parte software che fa funzionare queste macchine e facendo un salto nel tempo e arrivando ad oggi, Slicer, che è questo software, è un progetto open source molto diffuso che è il progetto di riferimento della community RepRap perché è un progetto che coinvolge anche esso centinaia di persone che tutti i giorni contribuiscono. È un progetto che funziona oggi anche perché c'è un sostegno economico da parte di aziende, che poi sono poco più che delle start-up in giro per il mondo, che fanno filamenti, che fanno stampanti, ma che ritengono critico per loro che un progetto come questo sia oltre il mio tempo libero e quindi possa andare avanti e possa continuare a svilupparsi. Grazie a questo sostegno, che è poi un crowdfunding che conviene a tutti, al progetto Slicer lavorano altre due persone, due programmatori part-time pagati attraverso questo sostegno. Il progetto Slicer ha un forte coinvolgimento della comunità anche perché si propone come stimolo per lo sviluppo della tecnologia. Molte volte la comunità maker ha bisogno di alcuni fattori, elementi abilitanti. Il software in questo senso permette alla community di lavorare sull'hardware una volta sbloccato quello scoglio che può essere il software in un caso complesso come questo. Mi riallaccio al tema di oggi con una testimonianza romana, siccome si parla di FabLab e di spazi maker. Quando ho cominciato a conoscere altre persone in questo campo mi sono trovato persone con competenze disparate ma tutte con una base comune, quella di voler mettere, di applicare queste competenze a progetti creativi, utili o meno utili ma con un fondo conoscitivo. E quindi abbiamo cominciato con alcune di queste persone a vederci tutti i giovedì da quando ci siamo conosciuti e nelle ore serali e notturne in pochi mesi abbiamo partorito una serie di progetti in pochi mesi dalle fusioni a droni stampati in 3D per riprese aeree a accessori fotografici, a plotter verticali. Abbiamo cominciato a ricevere anche proposte economiche, commissioni lavorative nonostante non fosse minimamente nei nostri obiettivi era poco più che un passatempo serale. E quindi, insomma, siccome a Roma non c'è un Fab Lab per ora io vorrei concludere con degli speranzosi puntini di sospensione.